quando c'è una proposta che mi stimola ovviamente non mi tiro indietro e siccome è una fabbrica di ceramica che io ho sempre amato la ceramica e che ho fatto tante cose con dei mattoni ho pensato che mi sarebbe piaciuto costruire qualcosa con dei mattoni dal nostro punto di vista è stato bellissimo e anche abbiamo imparato tanto da Nantali tanto questo suo modo di essere leggera nelle cose che fa e nello stesso tempo determinata e concreta la cosa più bella era quando sono state montate tutte e io sono venuta e c'era una cosa che non andava bene ho detto sai Massimo sarebbe bellissimo se ci fosse la sabbia per terra e lì la meraviglia di mutina in un'ora Massimo aveva già chiamato una persona che è andata a prendere dei campioni che è arrivato con due secchi pieni di due sabbie diverse quello ha cambiato molto la mostra la cosa bella è che con Nantali tutte le cose avvengono in modo assolutamente spontaneo Massimo mi ha telefonato mi ha detto devo venire a Milano a farti una proposta indecente è nato questo rapporto molto bello e poi è venuto anche qui naturalmente l'idea di chiedere a Nantali di realizzare una collezione cioè quindi entrare proprio completamente all'interno del percorso di mutina una volta che è stata fatta mi sono resa conto che era molto molto diversa dalle cose di mutina ho pensato che non era una collezione tanto da designer in verità che era una collezione più popolare io ho qui una portinaia incredibilmente simpatica che si chiama Margherita e quindi l'idea ho detto allora la chiamiamo Margherita abbiamo lavorato tanto anche insieme però l'idea è venuta fuori subito come Nantali e qui ha toccato un po' sai anche la pancia gli abbinamenti che avevo fatto erano un po' forti e invece lui ha detto dai prova a fare dei nuovi 10-20 che questo sempre mi piace e di usare di più la tinta unita e secondo me questo è stato una buonissima idea un tinello un po' futuristico ma un tinello con queste piastrelle ci sta bene una semplice cucina a gas smaltata bianca la credenza della zia ma anche una cucina a induzione e gli armadietti che si attuano con il telecomando in verità è una collezione perfetta per gli spazi piccoli con pavimento, zoccolo e muri interamente ricoperti di piastrelle con motivi diversi oppure una parete in una cucina all'americana o ancora un tappeto bordato nel salotto di una casa escriva con il televisore 60 pollici è perfetta per camminare a piedi nudi in una villa siciliana oppure anche con le pantoffole al decimo piano di un palazzo a ciniselo balsamo la collezione Margherita si può comporre in tanti modi come le piastrelle di una volta sono molto moderne anche se non sono di moda grazie a tutti